guarda come facecampera la merda ma tocca trovare l'altra porta si sta facecamperando ah coglione apri 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 coglione levati ah 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 0 su 4 ah ah facecamper di merda facecamper di merda ah 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 0 su 4 bravi ragazzi un team intelligente saperlo mi sacrificavo dapprima anch'io però dopo le esperienze degli ultimi giorni guarda che facecamper di merda bravo detective Tapp bravo detective Tapp ciao